Renzi, Renziani. Oggi hanno attaccato Conte per non aver preso le distanze con sufficiente nettezza da Donald Trump. Ricordiamo anche la Merkel lo ha fatto in modo molto esplicito, lo ha condannato semplicemente. Conte è troppo timido su Trump oppure Renzi cerca qualsiasi occasione buona per attaccare il governo e alzare il tiro su Conte? La seconda che hai detto, però io ho fatto un fioretto per questo 2021 e cioè risparmiarmi l'inseguimento dell'ultima dichiarazione, dell'ultimo esponente di quel partitucolo insignificante che sta facendo soltanto danni al nostro paese. Quindi preferirei astenermi e occuparmi di cose serie perché appunto le cose serie sono tante. Ecco ma non sei preoccupato per la solidità del governo? Non sei preoccupato che vada tutto a catafascio e che magari ci ritroviamo ad andare, non lo so, a elezioni anticipate? Certo, queste sono le cose serie, non le dichiarazioni sul tweet di questo o di quell'altro. È proprio una questione di igiene secondo me cominciare a ignorare i tweet di certi personaggetti. Per quello che riguarda la solidità del governo, l'unica cosa da fare per verificarla è un bel bagno parlamentare durante il quale il Presidente del Consiglio, dopo giorni e giorni di insulti ai quali non ha mai risposto, di provocazioni per fargli saltare i nervi, vada davanti ai senatori e ai deputati, faccia sapere qual è l'ultima versione del piano per il recovery dopo aver sentito i suggerimenti di tutti i partiti, anche quello lì insignificante, e ci dica chiaramente quello che vuole fare di qui alla fine della legislatura e chieda al Parlamento di dargli la fiducia. Se il Parlamento gli darà la fiducia andrà avanti, se no a quel punto la palla passerà al Presidente della Repubblica e la faremo finita con questa manfrina, perché già questo mese ci è costato uno sputtanamento internazionale sufficiente. Io credo che gli altri paesi d'Europa stiano guardando all'Italia domandandosi se siamo diventati matti a parlare di crisi di governo, elezioni anticipate, crisi al buio, rimpasti, cose del genere. Ma quindi vanno bene anche i responsabili, Marco? Vanno bene anche i responsabili, perché se Conte va alla Conta in Parlamento, se i renziani si sfilano come hanno ribadito anche questa sera, qualora Conte non accettasse tutte le loro richieste, chi è che dà la fiducia al governo Conte? I cosiddetti responsabili, che sono pezzi di Forza Italia, per esempio. Ma io non so neanche chi potrebbero essere. Se ci sono delle persone in Parlamento che vogliono sostenere il governo, siamo in un regime proporzionale per cui non c'è nessuno che alle elezioni ha fatto alleanze prima del voto, tant'è che Salvini si è messo con i 5 Stelle, con i quali aveva detto che mai si sarebbe messo. Il PD si è messo con i 5 Stelle, con i quali aveva detto che mai si sarebbe messo. Berlusconi autorizzò Salvini ad andare, purché il Premier non fosse Di Maio ma fosse Conte. Siamo in un regime proporzionale a causa di una legge elettorale, che tra l'altro non ho fatto né io, né te, né Sallusti, né Severlini. L'hanno fatta Renzi, Salvini e Berlusconi. E così si gioca con le regole che ci sono. Se ci sono delle persone che votano la fiducia al governo, il governo regge. Altrimenti o ne trovano un altro oppure si va a votare. Non ci sono alternative. I responsabili non sono mica il demonio. L'importante è che non vengano comprati. Perché i responsabili tipo De Gregorio facevano venire il vomito? Perché si è scoperto che Berlusconi gli ha dato 3 milioni per cambiare casacca. Ma se un parlamentare per garantire la fine della legislatura alla scadenza naturale e quindi il suo posto di lavoro, il suo stipendio, vota la fiducia al governo gratis e nessuno gli offre niente di illecito in cambio, sono le regole della democrazia parlamentare in un sistema proporzionale. Se non li trovano si va a votare. Basta. Certamente è molto meglio, se si trovano questi signori, che non sottoporsi tutte le sante mattine alle bizze e ai capricci di una banda di disperati che se si tornasse a votare verrebbe rasa al suolo. Come è il destino di questo governo dall'ultimo mese in avanti e anche un anno fa? Perché un anno fa se non ci fosse stata la pandemia il governo sarebbe caduto probabilmente su quell'altro argomento fondamentale che era la riforma della prescrizione. Quindi è evidente che un governo non può stare attaccato a questi ricattatori.